Siamo la regione che il rapporto agli abitanti, il rapporto alle imprese ha immesso più risorse per le imprese su questa nuova programmazione. Quindi parliamo di quasi 200 milioni di euro già a disposizione, che significa ovviamente uno sviluppo di risorse altrettanto importanti che i quali benefici poi ne ovviamente trarremo durante il prossimo anno e quando i progetti verranno sviluppati. Però volevo appunto così sottolineare questo dato importante perché quando parliamo di programmazione legata all'ecosistema imprenditoriale, economico, regionale fondamentale è il buon utilizzo e l'immediato utilizzo delle risorse che abbiamo a disposizione. Quindi le imprese marchigiane sono le imprese che in assoluto in Italia stanno maggiormente beneficiando delle risorse pubbliche. Ovvero la ricerca, lo sviluppo, gli investimenti produttivi e il credito. Attraverso questi strumenti stiamo dando delle risposte veramente fondamentali. Non ce n'è uno più importante dell'altro perché rappresentano anche uno sviluppo cronologico. Non c'è sviluppo industriale se alla base non c'è ricerca, se non c'è voglia di fare innovazione. In più il credito è una delle richieste maggiori che ci sono arrivate. L'accesso al credito per le imprese abbiamo creato un sistema che reputiamo tra i migliori in Italia.